nell'episodio precedente stiamo uscendo, se non andiamo a fare un giro in centro qui a Coralecco con Cazzo Cede e Silvio ma che bella amore! buongiorno a tutti da Coralecco, buongiorno a tutti da questa sera al bottiglio comincia un festival di musica e chi siamo noi per non andare? nessuno guardate un po' la pasta che ci ha preparato oggi Daria a pranzo per rifocillare un po' soprattutto il pranzo è tardo, posso aprire un po' che sto sudando? che ore sono? 14 e 21 quindi 15 e 21 in Italia ci abbiamo, io ho una fame pazzesca perché sono devastato da ieri dal pomeriggio in tavola e Daria ci ha preparato una pasta semplice e veloce ma secondo me sarà gustosa e buona con pomodorini cipolla olive e acciughe, sono molto grossi da assaggiare, ci va anche il formaggio sì io lo metto perché mi piace e nel frattempo adesso ci spariamo una puntata, il primo episodio dell'ultima serie di Trangertink io comunque nel frattempo sto finendo anzi sto iniziando praticamente a cucire i cuscini che ho iniziato ieri e come vi dicevo ci sto mettendo questa toppa sopra, c'è la cuccio, prima l'ho ricamata poi la cuccio e dopodiché andremo a confezionare tutto il cuscino la macchinetta mi sta dando un po' di problemi perché la manopolina è diventata dura quindi prima toppa cucita eccola qui facciamo anche la seconda come al solito la macchinetta sarà un po' lenta anzi un po' dura secondo me è da lubrificare, ma andiamo anche la seconda è stata cucita ora devo fare la cerniera, cucino la cerniera e poi cucire tutto ho cucito anche gli angolini della cerniera con la stoffa che aveva avanzato e adesso assemblo tutto e poi finisco e niente alla fine non ho fatto vedere tutti i procedimenti di nuovo per cucire questo cuscino ma è pronto eccolo qui facciamolo vedere meglio questo e manca l'altro qui sotto ha i suoi bei angolini sono contenta nel frattempo qui si è fatta sera e come promesso adesso andiamo a vedere appunto questo festival, questa festicciola qui al cotillo alla concia eravamo un po' in dubbio se uscire o meno, eravamo così propensi perché oggi pomeriggio ha piovuto, ha più riprese, tutt'ora il tempo non promette bene soprattutto anche perché il festival continua anche domani sabato quindi è anche domenica però noi ci siamo convinti e stiamo uscendo lo stesso quindi l'altra parte del gruppo sono già lì e adesso con Nick e Silvia facciamo strada insieme e andiamo a questo festival luce, scopriamo insieme di che si tratta perché non sappiamo non abbiamo proprio la più pali idea di che tipo di musica verrà suonata Manu là dietro sta correndo per andare a spegnere il gas perché ha visto Nick che correva ovviamente ci sono venuti dubbi anche a noi visto che lasciamo Coco e Naia in camper queste orette e per sicurezza lo spegniamo anche noi è diventata Sì! Guarda la domina! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 Io e la Silvia siamo vestiti qui Abbiamo ragazzi Se vi metto una petto dai Prima di arrivare al mercatino Però ci siamo fermati un attimo e facciamo una sostina gelato Che te non prendi vero? Abbiamo abbeverato le nostre bestie Feroci E facciamo questa sostina Beh in realtà il mercatino dell'usato è soltanto questo Quindi non so se ci sarà tanto da vedere A questo punto ne approfittiamo per continuare a fare una passeggiata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti